Quest'anno presento una piastrella a forno assorbente realizzata in sughero espanso. Sono pezzettini di sughero che vengono messi dentro a uno stampo. Questo stampo passa in forno e il sughero, come per esempio il popcorn, si gonfia. Perché questo colore? Perché questo profumo? Un profumo di affumicato? Perché quando si toglie la corteccia dell'albero, il sughero, rimangono sempre dei piccoli pezzettini di legno che sono impossibili da togliere. Questi pezzettini di legno prendono fuoco nello stampo con le alte temperature, mentre il sughero no, e quindi affumicano il sughero. E quindi il perché di questo colore e questo odore. È un ottimo isolante acustico e termico perché gonfio di aria rispetto all'agglomerato. Come sappiamo l'aria è il migliore isolante, sia acustico che termico. È un materiale usato principalmente nell'edilizia perché è considerato, tra virgolette, brutto. Nell'edilizia infatti è nascosto all'interno delle pareti e sotto i parquet. A quel punto dovendolo nascondere diventa costoso questo materiale rispetto ai competitors che fanno materiali sintetici. Usare un materiale della costruzione per fare del design, mettiamolo in valore, creiamo o sfruttiamo le sue qualità tecniche per dare una funzione decorativa, visto che è considerato uno dei migliori isolanti.